È sportiva, ha grinta e stile. Peugeot 208 completamente rivoluzionata rispetto alla versione precedente. È una vera regina di stile. Vediamola insieme. Mi piace molto la griglia frontale con il numero 208 a rimarcare il modello. I listelli cromati incorniciano il logo di Peugeot e sulla parte centrale abbiamo questi fari full LED con la striscia che si allunga verso il basso. Inoltre ci sono i sensori di parcheggio perimetrali. Il laterale è davvero molto grintoso. Ci sono queste linee di tensione che sono evidenziate nella parte centrale e poi abbiamo il notto e i posteriori fumè e la parte centrale il nero lucido. E non ve l'ho ancora detto ma questa è la versione GT! I cerchi sono in lega bicolor, grigio opaco e nero lucido, colore che viene ripreso sia nel passaruota sia nello specchietto retrovisore. Il bagagliaio è ampio e comodo, 265 litri di capienza minima. Abbiamo il vano di carico che è leggermente ribassato perché si sviluppa appunto in profondità e sotto alla soglia di carico abbiamo il rutino di scorta. Benvenuti nel vano posteriore di questa Peugeot 208 GT. Vediamo lo spazio a bordo. Mi metto dritta e ho tanto spazio davanti alle ginocchia, un po' meno sopra la testa, anche perché questa vettura è dotata di tettuccio panoramico. I sedili non sono molto spaziosi, si tratta comunque di una vettura berlina molto compatta, però sono davvero molto particolari. Infatti troviamo la trama in alcantara nella parte centrale, poi la parte in tessuto e poi la parte in pelle per il sedile centrale. Le sedute esterne sono entrambe dotate di attacchi Isofix. Se si viaggia in 5 non è il massimo della comodità, il tunnel centrale è importante, però ci sono due prese USB utili per ricaricare lo smartphone e dietro ai sedili anteriori abbiamo queste pratiche rettine portaoggetti. Bestia che lusso queste luci! Il lato anteriore è davvero davvero bello ragazzi, guardate non so veramente da dove partire a descrivere questa meraviglia. Partiamo dal volante, piccolo e maneggevole, molto compatto e molto sportivo, vedete queste forature e il logo GT qui al centro. Inoltre è dotato di molti comandi integrati. Dietro invece abbiamo tutta la gestione delle luci, dei tergi cristalli e qui dietro anche la tecnologia del cruise control. Il cruscotto è in posizione ribassata e ben protetto dai raggi solari. Inoltre ha la tecnologia 3D completamente personalizzabile. La plancia è divisa su due livelli, abbiamo questa parte superiore con lo schermo da 10 pollici e poi la parte inferiore con la tastiera toggle switch che ormai è veramente una caratteristica tipica del nuovo gruppo Peugeot. Lo schermo è completamente regolabile dalla tastiera, abbiamo la gestione della musica, del climatizzatore automatico, del navigatore satellitare, di tutte le funzioni di guida e assistenze e ADAS, connessione Bluetooth allo smartphone e connessione con MirrorLink, con Apple CarPlay e Android Auto. Più ovviamente tutte le impostazioni di setup. I sedili anteriori sono riscaldabili su tre livelli. Scendendo abbiamo la doppia presa USB e questo pratico sportello che apre direttamente sulla placchetta dello smartphone charging wireless. Il cambio inoltre è manuale a sei rapporti e inserendo la retromarcia si accende direttamente la retrocamera con assistenza al parcheggio. Qui abbiamo il freno di stazionamento elettronico e il selettore della modalità di guida, che si può scegliere direttamente dallo schermo con Drive Mode Sport, normale oppure Eco. E poi guardate questa cucitura verde lime che si riprende qui, qui e lì. I sedili sono molto molto morbidi e avvolgenti, anche qui si ripete la trama in alcantara, tessuto e pelle e le cuciture a vista lime e blu e poi ci sono i ganci Isofix anche sul sedile anteriore. Per i dettagli tecnici facciamo una citazione del nostro sales manager Umberto. Allora, situazione. Peugeot, nuova 208, benzina, 1.2 di cilindrata, 100 cavalli, allestimento GT Pack. Chilometro zero, immatricolata a febbraio 2021, quindi è veramente veramente nuova. Pronta per te che la stai per riservare direttamente sul nostro sito con una caparra cauzionale di soli 100 euro. Potrai visionarla insieme a me o a uno dei nostri esperti direttamente da casa tua con il nostro appuntamento virtuale. Così te la mostreremo un'altra volta in tutti i dettagli e potrai farci tutte le tue domande del caso proprio come se fossi qui con noi. Ricordati del nostro servizio di consegna a domicilio con diritto di recesso entro 14 giorni. Seguici su tutti i nostri social, abbiamo Instagram, Facebook, TikTok ed ora anche su Twitch. Bene, voi correte sul nostro sito, io parto con la 208. Ciao!